La Casoria vince, con noi uno dei protagonisti di giornata è il capitano Ciro Auricchio. Ciro, qual è il tuo commento a termine della vittoria del Casoria ai danni del Qualiano? Il commento mio è positivo, quando si vince è sempre positivo. L'importante oggi era vincere per mantenere sempre quel distacco importante sulla terza. Poi adesso mancano due partite, da qui alla fine cercheremo di vincerle tutte e due per arrivare fino in fondo al nostro obiettivo. Nonostante le assenze, oggi tutta la squadra ha fatto una prestazione quasi maiuscola portando poi a termine il risultato in favore della nostra squadra. Sì, ma noi siamo una rosa importante, quindi al di là di chi è infortunato e di chi sta fuori in panchina abbiamo persone che possono sostituire tranquillamente quelli là che mancano. Oggi ne mancavano più di quattro e chi è stato chiamato in causa ci ha dato una grossa mano per vincere questa partita di oggi. Settimana prossima il Casoria incontra in casa il Real Albanova. Che partita ti aspetti? Ciro, le partite sono sempre uguali. Si parte sempre dallo 0 a 0 e noi dobbiamo continuare con questa cattiveria e questa umiltà che ci sta portando a fare risultati. Dobbiamo continuare così fino alla fine e vediamo dove arriviamo fino alla fine. Infine una domanda personale. Sei il capocannoniere della Rosa del Casoria. Ben 28 gol realizzati quest'anno. A questo punto la promessa che ti strappiamo è quella di arrivare a quota 30? Promesse di gol non ne ho mai fatte però è anche il mio obiettivo adesso che mancano due partite arrivare a 30 gol e se adesso sto a 28 è tutto merito dei compagni miei di squadra che mi mettono sempre in condizione di far bene e di fare gol. Ringrazio sempre a loro.